Un signore ha un grave incidente automobilistico e finisce in ospedale. La moglie corre subito a trovarla, chiede ai dottori il suo stato di salute, esce il primario e le dice guardi signora, l'incidente è stato gravissimo, è un miracolo che suo marito è ancora in vita, però ha perso tutti gli arti, purtroppo dovrà stare su una sedia a rotelle, non la sentirà, non potrà più comunicare, non potrà più vedere. Praticamente è ridotto un vegetale, starà sulla sedia a rotelle, lei lo deve nutrire, lo deve lavare, lui probabilmente sbaverà per gran parte della giornata, quindi questo è il futuro che le aspetta. Vabbè non importa, io mio marito lo amo, lo accetto così com'è. Ma scherzo, è morto, subito, morto.